Ciao a tutti, torniamo a puntare il nostro appuntamento per scoprire le novità di giudici moto oggi vi presentiamo una bellissima Honda CBR600RR configurazione spettacolare, ovviamente come tutto il nostro moto dotata di scarico MIV, insomma una sportiva va riconosciuta come una tra le più divertenti con una ciclistica stupenda di casa Honda chiaramente taglia data e pronta a partire se volete venire a scoprire questo fantastico gioiellino con soli 23.000 km la trovate a casa da giusella in via Bessiz 800 oppure sul nostro sito internet giudicimoto.it